Purtroppo siamo giunti alla fine di questa puntata di Rome Tour, ma non preoccupatevi, la settimana prossima tornerò con Trastevere, un secondo solo. Non è un po' più sorrentino, da quando facciamo edizioni online, il tutto più semplice, fantastico, devo davvero andare adesso. Beh, che dire, alla prossima e mi raccomando, io scioggo sapienza. Bene? Posso togliere finalmente questo green screen? Mamma, sono pronte le orecchiette, e dai, ti devo andare al mare, allo stadio, e tante cose devo fare, muoviti. Eh sì, datti una mossa, ho già studiato, ho già studiato. Lo dicino la battaletta, la camisa, lo dicino la battaletta, la camisa. La 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 Grazie a tutti.